E' che quando noi parliamo di sfida, normalmente parliamo di sfida a versione maschile. Perché dico questo? Perché uomini e donne funzioniamo in modo completamente diverso. Noi mettiamo un ragazzino, per esempio. Abbiamo un ragazzino talentuoso, che viene a provare a palavolo, o calcio, o quello che è. Cosa fa il ragazzino talentuoso? Prova a fare il colpo più difficile, la giocata più difficile, anche se per fare questa giocata più difficile sbaglia un sacco di volte. E' un palleggiatore, le danno la palla e cerca di schiacciare nei due metri. Intanto tira dieci palle fuori un rete. Ma quando ci riesce a fare quella palla straordinaria, fa... Ci siamo i maschi, no? Se uno è bravo a calcio, cerca di fare il gol di Maradona con gli inglesi, il gol di Messi, cerca di saltare tutti, magari perde palla cinque volte, però se riesce a fare il gol, fa... Le donne non funzionano così. Quando io sono andato ad allenare le donne, ho detto per prima volta, una cosa che non avevo mai detto, gli ho detto, non vi preoccupate se sbagliate, provate colpi nuovi, fa niente se sbagliate. Mai detto una squadra maschile questo. Perché se una squadra maschile ha detto, va bene, se sbagliate provate, provano la super mega. Invece le donne hanno detto, provate non fa niente se sbagliate. Quando sono andato ad allenare le donne, ho chiesto a una mia amica che è preside di una scuola elementare in Argentina, molto intelligente, e ho detto, come sono da piccoli? Com'è questo rapporto? Lei mi ha detto una cosa che ho fatto pensare molto, ma lei ha detto, hai presente i calcoli matematici, mentali che si fanno a scuola? Mai vince una bambina, rarissimo. Perché? Perché lei ci arriva la soluzione, però nel dubbio che possa dire la cosa sbagliata, lascia andare un altro avanti. Perché se lei sa che era nel giusto, le è sufficiente. Non ha bisogno del riconoscimento, no? Invece il maschio ci prova, anche lì, 43, 62, e sbagli un sacco di volte, pur di una volta vincere. Invece le bambine devono stare ipersegure e comunque hanno quell'attimo di dubbio che fa che un maschio si anticipe, magari. Però loro dopo dicono, ah, lo sapevo. Sono tranquille. Lo sapevano. Con la mia squadra mi è capitato tantissime volte di usare l'orgoglio come modo di sfidarli. Andare un time out, per esempio, e dire stavano giocando così, andando talmente si legge in faccia che avete paura. E andare via subito, è chiaro, no? Perché sono grossi. Andare via subito, loro non possono uscire dal campo e loro si arrabbiavano tanto di questa cosa che io le avevo detto, ma se vedete che... se le gonfiavano le vene del colo e se la prendevano con quello che c'era, che era l'adversario. E io ottenevo quello che volevo. Appena presa la squadra femminile ho provato a fare lo stesso, per quello che dopo ho fatto tutto questo percorso di capire un po' come... Ho fatto lo stesso e le ragazze dicono ma abbiamo paura? C'era il rischio di convincerle anche che avevano paura. Funziona in un altro modo, non è che se uno le tocca l'orgoglio adesso li faccio vedere... Funziona in un altro modo. Per cui la sfida è molto diversa. è molto diversa. Si ha visto che per risolvere un problema matematico l'uomo usa la parte del cervello razionale. La donna usa anche parte dell'emisferio affettivo per risolvere un problema matematico. Questo è un dato di fatto. Per cui noi, noi uomini, quando abbiamo a che fare con le donne, non solo per le sfida, non dobbiamo più criticare le donne perché sono femminili. ossia perché hanno caratteristiche da donne del tipo ma perché se la prende tanto se questo è solo un problema di lavoro? Perché è così. Qualunque problema di lavoro, non di lavoro, ha una connotazione affettiva. E questo lo dobbiamo sapere sia per gestire le persone ma anche per vedere come funziona la sfida. La sfida della donna non funziona. Adesso dimostro che sono il più forte. negli uomini sì funziona. Se uno le dice a un uomo ma lo punge nell'orgoglio, quasi tutti gli uomini reazionano per dimostrare che invece sono forti. La donna funziona in un altro modo. Detto questo, però, detto questo, questo non significa che la donna abbia meno forza. Quando la donna piange è come il nostro cazzotto. La donna piange perché ha perso il controllo, non perché è debole. Come noi quando diamo un cazzotto è perché abbiamo perso il controllo. Noi non vogliamo dare cazzotti. Voglio dire, no, discutiamo noi e diamo un cazzotto. Non vogliamo. Se ci scappa è perché abbiamo perso proprio il controllo assoluto. E la donna è uguale. La donna odia piangere davanti a noi uomini. E l'ultima cosa che vorrebbe fare quando perde il controllo lo fa. Come noi odiamo andare così oltre e devo dare un cazzotto a uno nel lavoro, per esempio. Se ci succede poi stiamo malissimo. Queste cose sono, credo, importanti perché le sfide si può affrontare in modi diversi. Noi in Argentina, purtroppo, abbiamo avuto un caso femminile incredibile. Quando è stato il problema di tante ragazze desaparecire, scomparsi perché le prendevano i militari, si creò un movimento di Madri, che si chiamò Madri di Plaza di Maggio, che andava davanti alla Casa di Governo che era un suicidio praticamente, in quel momento lì. Da chi ci andava sapeva che aveva grosse possibilità di sparire anche lei. Andavano a girare intorno a una piramide che c'è chiedendo per la libertà perché i figli sapessero dove erano. Non c'è stato un movimento di padri di Plaza di Maggio. C'è stato un movimento di madri di Plaza di Maggio. Perché? Perché molte donne e poi raccontavano l'istoria di queste donne che erano magari timide, tranquille, professioni non manager o di gestione, erano molte casalinghe. Quando se tocca il figlio o una mamma viene fuori una forza che è molto superiore a quelle che abbiamo noi uomini. E questo è stato un esempio tragico ma straordinario. Questo per dire che quando noi presentiamo queste sfide sì la dobbiamo presentare in modo maschile e in modo femminile ma non credendo che la donna perché funzioni in modo diverso ha meno forza da raccogliere le sfide però bisogna ricordarsi che in quelle sfide nella donna deve avere una forte connotazione affettiva emotiva molto più di quanto ce l'ha nel uomo. E allora questo modo di presentare le sfide può funzionare. Io ho dovuto cambiare completamente il modo di gestire certe situazioni quando ho passato di una squadra maschile a una femminile. Nel mondo del lavoro la difficoltà sta a differenza del mondo dello sport che noi alleniamo o una squadra maschile o una squadra femminile mentre che nel mondo del lavoro stanno insieme e quindi la funzione del manager del capo che gestisce le persone è molto più complessa perché sono insieme però bisogna tenere assolutamente conto. che sono insieme a tutti sono insieme a tutti che Grazie a tutti.